Non si vede molto bene anche il momento di frenare, forte frenata, terza seconda, le Formula 1 anche qualcuno li fanno in prima. Un tratto che è un piuttosto poco, la parte più lenta, più guidata, molto scivolosa. Questa curva si vena abbastanza, una curva sempre con tanto sottosterzo. ...per lanciarci nella parte che non ha cambiato per tanti anni, quindi i piloti useranno tutto il corno davanti a tutta la pista. Sempre in discesa, una pista cuesta con tanti sali scendi, fuga velocissima, devi sacrificare un po' l'uscita perché subito dopo c'è una copa lenta di destra. Anche in cui si usa tutto il porto in salita, ovviamente imbagnato perché non l'aricante, ma perché i cordi sono molto piccoli. ...e una buona forte frenata, dove spesso ci vedono dei bloccaggi nelle ruote anteriori. Fa anche tutta la curva ateraltata, per una fisica bellissima, ci viene accenato molto. ...e adesso questa è la partita, è in pieno, qualifica sicuro in pieno, in gara forse qualcuno alza un po', sale molto, siccome questo volto va al massimo. ...a tutta la pista. ...e una buona parte, sui 100 metri si frena. ...e una buona parte, anche più importante, quando viene la pista che rimasta, ...apena si frena. ...e' importante accelerare molto presto perché l'ultimo tratto è quello più dolce. ...e una buona parte. ...e una buona parte. ...e una buona parte. ...e una buona parte frenata, ci cambia in questo modo. I cordi sono cambiati costano, sono molto piccoli. ...e una buona parte. ...arriviamo nell'ultima curva. ...e una buona parte. Grazie a tutti